Ciao Arduino, qui a Investing Roma, sei già stato protagonista di un intervento, ce ne vuoi parlare? Sì, l'intervento è stato relativo al mio metodo di lavoro, la price action, la sala era completamente piena quindi sono stato davvero felice di com'è andata, tra l'altro c'erano molte persone che erano interessate al mondo del forex ovviamente è quello a cui mi interessa ogni giorno e su cui faccio trading, quindi ho visto molti interessi addirittura anche un livello della sala abbastanza buono, quindi domande anche di approfondimento interessanti quindi è stata un'ottima esperienza questa oretta che ho fatto. Grazie mille.